L'ultima seduta del Consiglio Comunale è stata interrotta per dar modo al lavoratore dell'ILVA di incontrare i capi gruppo ed esporre i problemi relativi alla questione Amianto, che tiene sulla corda centinaia di famiglie genovesi. Abbiamo sentito Stefano Milone della segretaria FIM CISL Genova. La questione Amianto è una situazione che sa dell'incredibile. Sono stati dati dei riconoscimenti negli anni precedenti in virtù di atti di indirizzo ministeriali che erano conformi a quelle che erano l'esposizione dei lavoratori, specialmente nell'ILVA, nell'aria caldo e freddo. Oggi ci troviamo a delle revoche momentanea e si parla di diverse centinaia, cosa insostenibile e imprevedibile, in quanto vediamo che altri colleghi di altri siti a livello siderurgico, da Taranto a Piombino, a Novi, continuano ad esserci una situazione di fatto che vengono ancora riconosciuti le esposizioni e addirittura viene riconosciuto anche l'esposizione fino al 2003, mentre qui a Genova vengono fatte le revoche con quei lavoratori che l'avano ottenuto fino al 2002. Noi riteniamo la situazione molto molto ingiusta e discriminante per i lavoratori genovesi, in quanto riteniamo siano stati esposti nella stessa identica maniera di quei Taranto, se non di più, perché è lo stabilimento di Genova, lo stabilimento molto più vecchio di Taranto e di riflesso l'esposizione dell'Amianto era superiore. Con questo non diciamo che noi siamo più o meno esposti degli altri, però diciamo che vogliamo gli stessi diritti. Stessi diritti oggi a Taranto si continua ad andare avanti con la stessa situazione di anni fa, mentre a Genova in virtù di un'indagine fatta da un magistrato tutto sembra si sia paralizzato, anzi non è paralizzato ma sta rievocando tutto. Riteniamo che questa sia un'ingiustizia, in quanto riteniamo che i lavoratori dell'ILVA di Cornigliano, essendo lavoratori esposti in ambienti siderurgici, come è stato anche confermato in vari tavoli ministeriali, sia un'ingiustizia nei confronti di questi lavoratori, anche perché a Taranto si continua ad andare tranquillamente ad avere i benefici della pensione, mentre a Genova tutto è bloccato. Non solamente viene revocato il beneficio ai lavoratori dipendenti di ILVA, ma addirittura c'è uno stallo per quanto riguarda quei lavoratori che sono stati esposti anche oltre il 92. Oltre il 92 noi abbiamo avuto pochissimi benefici, mentre negli altri siti, sempre siderurgici, l'esposizione viene considerata fino al 2003, a meno che non siano state fatte in qualche area, in qualche reparto, bonifiche consistenti, bonifiche totali. E sembra addirittura, notizia proprio dell'ultima ora, che a Taranto nonostante non solo i lavoratori dell'ILVA stanno ottenendo il beneficio fino al 2003, ma addirittura anche alcune ditte d'appalto, per cui ci sembra veramente incomprensibile come su una stessa legge che parla in maniera, chiara all'italiano, vengono applicate cose completamente diverse l'uno dall'altro.